Nella sala consigliare di Santa Maria Lanova a Napoli le conferenze d'ambito sulla programmazione della rete scolastica e sull'offerta formativa per l'anno 2025-2026. Due giorni, quattro sessioni di incontri aperte a tutti gli operatori della scuola per affrontare meglio le esigenze formative e organizzative di ogni realtà. Stamattina abbiamo incontrato l'ambito 12, 13, 14 fino adesso che riguardano le scuole napoletane dove ci sono richieste anche di vari indirizzi scolastici che vanno dal tecnologico al liceo di scienze umane e importanti perché sono dei riferimenti rispetto a quelli che sono poi bisogni dei ragazzi che in qualche modo poi sono rilevati in quest'ultimo anno. Sono degli incontri importanti perché noi come ente possiamo soltanto accogliere quindi non possiamo essere presenti materialmente su territori e in tutte le varie realtà scolastiche per cui questi incontri dove vengono riportate quelle che sono le esigenze, anche le particolarità dei quartieri di riferimento, in questo caso parliamo di Napoli, per cui siamo da filtro, da contenitore anche rispetto a quello che poi sarà il nostro cannovaccio su cui lavorare e poi dare il nostro parere sugli indirizzi da poi sottoporre alla regione. Oggi siamo qui per raccogliere quelle che sono le esigenze dei territori del tessuto metropolitano di Napoli e Napoli Nord, di concerto anche con la consigliera che mi accompagna, dottoressa Salerno, per fare cosa? Accogliere le richieste ma avere anche una visione, una visione che possa essere lungimirante nelle prospettive. L'osservatorio scolastico è una richiesta fortemente evoluta, non nata oggi ma già ancora prima di questi tempi perché abbiamo bisogno di avere un'analisi puntuale anche di quello che possa essere l'andamento socio-demografico dei territori perché lungimirante nelle prospettive dobbiamo accogliere quello che è la crescita demografica più o meno in rapporto a quella che può essere ancora la decrescita, le esigenze dei territori, riformulare quello che è il trasporto scolastico. Non sempre le richieste sono riscontrabili da quelle che realmente arriva tangibili dal territorio. Quindi fare un lavoro più accorto e mirato potrebbe rendere la città metropolitana una visione d'insieme che permetta di lavorare meglio al futuro della scuola. Oggi abbiamo colto l'occasione di presentare anche le nostre esigenze perché da soli non riusciamo ad avere dei dati al provveditorato o alla scuola e siamo sicuri che sia un punto oggi di partenza per cui cominceremo a costruire le prime basi per mettere su un progetto che sia edificabile, che sia effettivamente sostanziale per avere una visione migliore perché così non riusciamo anche in rapporto a quello che è l'accorpamento e il dimensionamento scolastico. In una visione di una scuola che cambia c'è bisogno di risposte ma soprattutto c'è bisogno di conoscere al meglio i territori e poter corrispondere al meglio a queste le esigenze che dettono i giovani e la scuola. Collaboreremo volentieri con l'osservatorio perché è nell'interesse dell'utenza scolastica creare questa sinergia, questo confronto costruttivo con l'osservatorio perché ovviamente l'obiettivo dell'osservatorio è l'obiettivo dell'ufficio cioè entrambi abbiamo a cuore il benessere dell'utenza scolastica quindi ben venga questa collaborazione a livelli massimi. Noi stiamo progressivamente seguendo una linea di indirizzo che poi è anche una linea di indirizzo regionale e nazionale cercando di costruire la continuità educativa quindi mettere insieme, usare il percorso di dimensionamento in modo molto articolato per creare la possibilità di istituire degli istituti comprensivi in alcuni casi sono i circoli didattici che ci chiedono proprio di diventare istituti comprensivi noi accordiamo questa possibilità là dove ci sono gli spazi adeguati ad accogliere anche la platea per la scuola secondaria di primo grado in altri casi il dimensionamento ci porta proprio in una linea di continuità a costituire dei nuovi istituti comprensivi che incorporano dei circoli didattici già esistenti sul territorio in una logica di progettualità condivisa tra i dirigenti scolastici quindi questa è la nostra linea di indirizzo e progressivamente stiamo lavorando in questa direzione. In qualche modo approfittare di una situazione critica per trasformarla in un vantaggio? Sì, per trasformarla in un vantaggio a beneficio della platea del territorio in alcuni casi istituire un istituto comprensivo a partire da un circolo didattico significa far sì che non ci sia una dispersione da parte dell'utenza ma l'utenza rimane all'interno della stessa struttura e quindi sullo stesso territorio in altri casi laddove ci sono dei circoli didattici che collaborano da molto tempo con scuole secondarie di primo grado già esistenti sul territorio diventa anche poi naturale la fusione tra le due realtà.